Il progetto iniziale del DAMS viene gestito in realtà anche qui in modo abbastanza composito, nel senso che all'origine della proposta c'è l'istituto di studi musicali, comunque un istituto legato soprattutto al contesto musicale, ma in realtà poi la proposta di DAMS viene portata avanti soprattutto dal professor Marzullo, che appunto non appartiene agli studi di ambito cinematografico e poi dibattuta a lungo da una personalità come quella di Capitani, che è un medievista, e poi ancora da alcune autorità accademiche come Anceschi e poi quasi da subito Barilli e Eco. Quindi, come dire, il progetto e le personalità coinvolte, soprattutto le personalità coinvolte nella prima fase, almeno fino a tutti gli anni 70, sono personalità accademiche in qualche modo esterno. La cosa interessante, tra l'altro da notare, è che se seguiamo le parabole accademiche dei soggetti, proprio coi nomi e cognomi coinvolti, ci accorgiamo che anche lo spostamento all'interno del contesto accademico è diverso e procede a velocità diverse, tra docenti che appunto si occupano di materie cinematografiche e docenti che non si occupano di materie cinematografiche, che hanno un potere decisionale più forte in questa prima fase. Quando si parla di contesto culturale nel quale il Dams si inserisce, non si può non notare una certa sfasatura, una certa sincronia, soprattutto se ci riferiamo alle discipline che sono di mia competenza più stretta, cioè quelle di carattere cinematografico. Faccio alcuni esempi che valgono davvero soltanto a titolo di esempio. Il Dams, lo sappiamo, nasce in realtà in via del tutto sperimentale nel 1970. Gli anni a cavallo tra la fine dei 60 e l'inizio dei 70 sono anni di grandissimo attivismo, per esempio degli enti locali dal punto di vista della politica cinematografica. Sono gli anni in cui si consolida a Bologna la presenza di un ufficio cinema legato al comune di Bologna, quella che poi diventerà la Cineteca di Bologna. Il 70 è anche l'anno in cui, dando seguito a un mandato costituzionale, vengono effettivamente istituite le regioni, tra cui ovviamente anche la regione Emilia-Romagna, e noi sappiamo che il primo presidente eletto della regione Emilia-Romagna, Guido Fanti, già sindaco di Bologna, dà vita a tutta una serie di attività in ambito culturale, la politica dell'audiovisivo, che talvolta vedono anche il cinema al centro, convegno, quei atti poi vennero ospitati su bianco e nero, sul ruolo delle regioni nel cinema italiano, una sorta di placet esplicito fino a un certo punto all'attività di Roberto Faenza e alla fondazione di Radio Bologna alla metà del decennio. Sappiamo che a Bologna c'è una presenza di insegnamenti di storia del cinema o di cinema a livello formale e informale, quelli tenuti da Canziani, l'insegnamento di filmologia tenuto da Canziani presso la facoltà di Magistero, sappiamo da alcune tracce prese qua e là che per esempio Vincenzo Bassoli, militante, culturale, bolognese, attivo soprattutto in ambito cinematografico, critico, eccetera, invita nel 1951 l'allora critico di riferimento della cultura cinematografica italiana, Guido Aristarco, a svolgere una serie di lezioni presso l'università, non meglio identificata, meglio identificato contesto accademico, comunque presso l'università di Bologna, università all'interno della quale sappiamo per esempio che tesi di storia del cinema erano state assegnate da Roberto Longhi in anni precedenti. Esiste quindi un humus sviluppato da cui ci si potrebbe aspettare qualcosa? E' altresì vero, qui mi limito a parlare per l'appunto degli insegnamenti di carattere cinematografico, che nessuna di queste componenti sembra concorrere quantomeno in maniera diretta all'instaurazione, all'istituzione di corsi di argomento cinematografico, televisivo, radiofonico nell'allora nascente Dams di Bologna.